Ciao a tutti e a tutti, ben arrivati alla quarta angolazione perché vediamo quanti video faccio per registrarla tutta in Italia praticamente vado avanti io vi faccio vedere un po' quello che mi circonda vuole dire questi poi di là non ne parliamo perché ci sono delle canne da zucchero aspetta, fatemi vedere se è tutto bene perché poi prima mi si è tornata la telecamere non mi sono manco accorta e ho dovuto pulirla guarda, sto postando in mezzo agli alberi e qua invece siamo arrivati a un buon punto di corso Italia lì c'è anche la bandiera di Genova non so se ci vedete proprio il sole qua dove di solito qua alcune persone sono al mare lì c'è un faro che serve per le navi che praticamente durante la notte se non ci vedono possono contare solo luce del faro che è successo qui vabbè qualcuno si è divertito con i coriangeli guarda, se parlo male non so quanto suona però dirò non te dammi troppo poi devo tornare verso la macchina ah qui ci sono anche due delfini che si vede anche bene però è tutto a secco mi sa perché comunque di acqua non ce ne accati mai allora vi farò vedere la quinta angolazione di corso Italia vi garantisco che è lunghissima ma a malapena le sono riuscite a fare forse un pezzo per oggi è tutto da Asia Bianchi out grazie mille grazie mille